Buonasera a tutti, ci sono troppo al telegiornale in Bergamasco e le ultime notizie della Regione Lombardia. Parlo con il tema che l'è sentita dalla SET, parla di quel che costa la politica. Al Pirelu si è trovato in accordo, i stipendi che vanno in subito e le vitali che vanno in fuori della legislatura che l'egnerà dopo. Chi è di maggioranza e chi è di minoranza del Consiglio regionale, chi è trovato insieme nel comitato ristretto tirato insieme a posto, ha deciso di dare le spese di gestione che vanno a lunga. In cui ha dato il primo via ai due boss che farà la base per una legge che tutti insieme voteranno prima della fine del MIS. Tutti i partiti sono d'accordo, avete il stipendio consigliere del Pirelu del 10% del primo desiderio del 2012 e sono d'accordo a far farlo per l'ascente e vitali che vanno a fare l'esito la prossima volta. In minoranza e maggioranza si saranno pommettati d'accordo per farlo per la liquidazione, chi ha anche consigliere che vanno più gli esiti e che ancora la corrisponde a una mensilità all'anno. Tocchi Lourkei passerà al Consiglio regionale per l'ultima approvazione, siamo alla saldita di martedì e arriva quindi alla fine che si era metto in delco la Lega per prima, o il PDL o il Partito Democratico, che a lui era metto tre progetti di legge quasi stessi per chi vuole dare qualche costo alla politica. La va bene, la dice il formigù, la decisione del Comitato per dare i costi alla politica di portare al Consiglio regionale l'abolizione di vitali e di consigliere. La Lombardia la fa, la fa e il punto del capo della riduzione dei costi alla politica che la fa e lavorare seriamente. Per la Lega l'ha parlato il Presidente della Commissione Bilancio, o il Fabrizio Cecchetti, che l'ha auspicato che quel che l'ha decidito la Lombardia ha il sesso d'esempio per tre o tre regioni, a modo più per chi spiega la manetta. Parliamo della Rometa, perché alla fine è finita anche le piacette proprietà la nuova campagna per la riduzione della produzione della Rometa tirata insieme dalla regione Lombardia in collaborazione con sette aziende della Gran Distribuzione, organizzata per tutta la settimana a est in 26 supermercati della Lombardia, è una sfraccia di lavoro che vuole circa cambiare le usanze di consumare il lavoro per dire a chi va a fare la spesa di comprare il lavoro che ruina meno l'ambiente. Meno scatologi dunque è abitudine a fare il lavoro con più giudice per teatro subito, quel che appena riaccia a ca' al finesse della Rometa. Il lavoro che gli è piaciuto più è che è stata l'endita di detersivi e del grain di dispensare, la promozione dei prodotti locai, l'indicazione dei prodotti che ha meno scatologi, la distribuzione dei borsettini che dovrà più oltre, la donazione a immense di poirecchi di lavoro freschi di mangiare a chi gli è stacendici. Questa campagna per la riduzione della Rometa è stata approvata per un anno nella città di Bressa e l'indicazione proprio bene. Ad esempio la pratica che dovrà mai cercare il posto di Panisei di Biotavia è coinvolta l'11% di scatini nella città di Bressa dell'ultimo anno e chi fa mai e chi dovrà che questo sistema gli ha risparmiato il 30% di solce per comprare Panisei e una riduzione di 77 tonnellate di Rometa. Con quel piano che è di riduzione della Rometa, la Lombardia, la va più in là a modo della raccolta differenziata, la si mette in testa agli altri regioni italiani con l'idea di riuscire ai stessi livelli dei paesi del nord d'Europa. A Berghem, visto che è chiesto nel telegiornale in Bergamasca, questa iniziativa la settegnida tutta la settimana come ma di prima e la settegnida il supermercato Ocean, The Kuren e The Berghem in via Carducci. Un'altra notizia riguarda la sanatoria, il Dio dice che era una sanatoria per chi ha occupato i capi popolari del Fros. Mi spiace per loro ma non è una sanatoria per chi ha occupato il Fros, ma invece spero di rimediare se io ho sbagliato i lavori amministrativi. Questa è la posizione che la dice ora l'assessore regionale alla CAA Domenico Zambet e il Presidente Laller di Milà, Loris Zaffra. Un po' per risposta, è una volta per tutto una campagna di bambossade portata a Nante e di dei passaggi da un sindaco che vuole dare una legittimazione e occupazione del Fros. Che chi ha il documento di regolare di assegnazione della CAA, la dice il Zambet, e quindi ha il contratto colare o col comune, l'idea considera che gli stati detti in della CAA del Fros. I disposizioni regionali, le indagini in Nante e il Zambet, mi prevede che chi sta detti del Fros in della CAA abbia una sanatoria e poi non ha consentito l'occupazione perché lui ha bisogno. I gattacce famè, chi gamba in povertà e magari peggio amò di sfrundù, ma chi rispetta le disposizioni e leggi. A Milà restano quasi 3 mila sfrundù, di queste 126 sindicati del Comune e 122 sindicati dell'Aler. L'anno passato è stato fatto ben 60% di sfrundù del territorio della città di Milà. Se la regione leggiare a Daga distingata che chi fa i furbi non vedrà che è il che farà chi buonisti della giunta del sindicato Pisa Pia del Comune di Milà. Un'altra notizia, che proprio l'è anche, è stato migliaia di bergamaschi a visitarci in questo fine settimana o il nuovo ospedale di Berghem riaquase alla fine del canter. D'ultimo, ieri per i 4 mila dipendenci di riuniti, in cui per tutta la sette, che la direzione di ospedali riuniti e li ha tirati insieme per fare foli interesse, curiosità e speranze che i bergamaschi li ha per il più grande ospedale della Lombardia, sia per il numero delle leggi, che sarà 1.200, che per la misura dell'area occupata. Sarà 320 mila m2 del nuovo ospedale. I visitatori li ha seguiti i percorsi stabiliti e la squadra di 30 persone con di due tour di infermieri a fa da guida li ha camminati nella Hospital Street la via che la sta messa tra i settori e il piastro tecnologico e a visitare la tour numero 1 che l'esame attrezzata con i mobili in due che sarà il Dipartimento di Madre e Research e la Degenza delle Ostrattrici. Questa vuole essere una risposta concreta ai bambossati e ai tirati fuori di due passaggi dall'opposizione sulla situazione del canter dell'ospedale. I maio lì dà la possibilità di essere di essere di persone e il nuovo ospedale l'ha detto Carlo Nicora che è il direttore generale di ospedali riuniti. A me lo faccio con grande trasparenza tutto quello che il grande laurea fa i fin adesso per dare a guida la possibilità dell'azete di cominciare a scoprire i taci e nuità della nuova struttura. Questa sarà mia l'unica occasione che andrà a la città di essere e conosciuto il Papa Johan che è il nome dell'ospedale 9 ma il primo passo di una strada che perdere a preu da quella che porterà fino all'età via su. Proprio quello che dice l'azete alla fine della città dell'azete è stata meravigliata da quella che quando la sarà dervida tra dei smith, autore, dell'anché sarà il più bello ospedale d'Italia e il più importante d'Europa. Per questa sera le tue a settare la prossima edizione del TG in Bergamasca.